Cambio di presidenza alla sezione arcense della SAT. Nel corso dell'Assemblea, che si è svolta nei giorni scorsi, il 47enne Massimo Amistadi, già consigliere comunale del PD, ha preso il posto del presidente uscente Fabrizio Miori. Elette anche le altre cariche istituzionali, del nuovo direttivo che conta 11 persone. Vicepresidente è Laura Cerretti, Antonio Paternostro, il cassiere, e Letizia Rossi, il segretario. Saranno numerose le sfide che dovrà affrontare la nuova squadra, la quale avrà anche l'onere di inaugurare nel prossimo autunno il rinnovato Rifugio Marchetti sul Monte Estivo.